Se tu guardi ogni volta, ti dovrò portare qualcosa. Il prossimo pezzo è questo, fantastico strumento. Lui tu non sento più niente. Fai gli scherzetti. Non solo a lui, anche a me. E dunque... Non so se siete capitati su iTunes in questi giorni. Questo pezzo era il singolo della settimana. Sì, ci stiamo vantando, però è una cosa bella. Io non mi escludo la vostra cosa. Beh, va che a lui l'applauso, se ci siamo più soddisfatti. Io ho iniziato a suonare. Se voi posso anche raccontare qualche storia su qualche animale istinto nel Cinquecento... Ah, iniziamo. ... 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